La Juve in Goal, la Juve in Goal Così Ma no, ma ci sono delle... Ma no, ma non siamo... Ma YouTube, Paolino! Ci sono delle... Ma su YouTube ci sono delle regole Fratelli Bianconeri, sorelle bianconere La Juve in Goal Ma no! Si può cantare? Sì, ma no, ma prima... Aspetta, ci sono delle regole da seguire Devi lanciare il canale YouTube Sì E allora devi seguire delle regole, allora Ma ci sei anche tu in quel canale YouTube? Probabilmente sì Fratelli Bianconeri, sorelle bianconere Antonio Paolino, super ospite di questa puntata Sul nostro canale Non si dice puntata, c'è contenuto Vedi, questa puntata è il refuso televisivo Contenuto Io sto zitto perché ero vino alla trasmissione No, adesso sei come ospite pregiato Contenuto, quindi iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Like al video Bell'aicone, contano i lacconi Lacconi Commenti come se piovesse Così interagiamo E campanella per essere raggiunti e raggiunte In attesa di Fiorentina Juve No, per quelli della Fiorentina Ah, ma perché? Ma no, ma non hanno paura Allora, c'è la squadrone Hai sentito cosa? Hai sentito? Facciamo così perché siamo a Firenze Siamo negli studi di Firenze Sì, siamo stati rapiti per qualche ora Trasmetteremo anche da qui, possiamo dirlo Partiranno dei tour, Radio Bianconera Azzurri Ma non anticipiamo io Tridente Comunque a Firenze sono convinti di avere uno squadrone Il migliore allenatore del mondo No, erano anche convinti Non so se hai notato quando siamo arrivati Che Allegri fosse stato espulso E squalificato No, adesso ve la dico Questa è bella Questa è bella Questa è la chicca Questa è la chicca Siamo entrati Il contenuto di oggi Sono un sacco di scene Retroscene E' una Siamo andati a pranzo E siamo andati No, io non posso dire Un bicchierino Un bicchierino piccolino Mi sono preso un inseratore Un chiantino per accompagnare il peposo E erano Stavano, no Erano preoccupati No preoccupati Angosciati Angosciati Perché Voi sapete come funziona Far sopoli L'abbiamo visto a tutti La Bibbia, la gazza Il tabellino della gazza Tivulare Poi l'avvocato di Moggio Diceva Ma veramente è sbagliato Ma l'ha scritto la gazza E va bene Non è che non può sbagliare E anche qua Cosa ha scritto la gazza Allegri che si è fatto Preso il rosso Certo E invece no E invece no No, 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 no C'è C'è E voi dite Vabbè ma chi se ne frega E no Loro erano preoccupati Perché in caso Di assenza di Allegri Sarebbe stato in panchina Landucci E lo aspettavano al barco Il vice di Allegri Toscanissimo Gobissimo Che oramai è diventato Più gobbo Di tutti noi Vessi insieme Ma andrà a stendere Un fiorentico su due Anche alle poste Quando torna in famiglia E quindi che stavano preparando Neanche il parrucchino Che avevano fatto La coglietta Fischietti Le hanno ricomprati Da San Siro Ah A proposito 15.000 No scusa A proposito Apro e chiuso una parenti Come diceva Totò Così facciamo Anche Napoletano Sarebbe che non solo loro Possono citare Ma i fischietti di San Siro Le banane di San Siro E i cori razzisti Che si sono sentiti Uscire dal tubo catodico Nei confronti di Lukaku Dove E mettere Un coro Sbagliato Nei confronti Del giocatore Nell'erbi d'Italia E titolarono subito Vergogna Juve razzista Dove sono finiti Ieri sera In questa I fischietti che c'erano A Firenze Per la prima di Vraovic Ne ha ricordato anche quelli Sono quelli Che hanno prestato A San Siro Prestato a San Siro Che dobbiamo riportarli A Bologna Perché poi passa un pulmino Quindi non gliela Squalificano la curva A Simone Inzaghi Eh no E non l'ha scritto la Gazza E non l'ha scritto quindi Ah quindi non è Quello che accade Ma è quello che si racconta Quello che si vuole dire Quello che si O quello che si vuole tacere Un po' di tutto Ho capito Ho capito Senti oggi mi hai detto Che ci sono dei casi Che nessuno ha raccontato No oggi Oggi noi 16-17 Eccezionalmente Dagli sudi Della Toscana Quindi chi l'avrà visto Perché questo video Ovviamente rimane Chi l'avrà visto Dalle 16-17 Con Antonio Paolino Presente insieme a me Faremo la moviola Specialissima Di Juve Verona Dal vivo Perché gli episodi Di Juve Verona Più passano i secondi E più aumentano Tutti a nostro danno Ovviamente Sono 12 Sono 12 C'è anche un fallo laterale Invertito a Chiesa Che guarda stupito Guardalina E gli dice una roba tipo Ma è da quando giocava Mio padre Che non si inverte Un fallo laterale Ha rischiato anche Quello dopo Ha rischiato anche Quello dopo Vero? Due corners Scomparsi Deviazioni incredibili Ci ha fatto inquietare Santarelli Quel povero Santarelli Che soffre di cuore Quello che stai studiando A Radio Bianconeri Tridente Tridente a Firenze Andiamo col tridente? No Tridente Adesso Scusa Adesso che Allegri Ha messo posto la difesa Tu gli vuoi mettere già Il tridente Non me lo devi stabilizzare Più di tanto Io ho fatto il viaggio Fino a Milano Da solo Hai avuto Il piacere Hai pensato No ho letto i giornali Poi sei salito tu E mi hai rovinato La mattina Perché? Siamo arrivati a Firenze Perché avevano un impegno Extra coniugale Di lavoro Di lavoro Extra coniugale Sembra che No Hai appena scoperto Che andavi a ballare In quel posto Lì in Toscana No mia moglie da giovane Andava a ballare Io a ballare Non ti facciano entrare Comunque Abbiamo rischiato Di non salire sul taxi E forse di essere Cacciati dal taxi Per la Arroganza Bianconera Del nostro Zuliani Che voleva convincere Il passista Fiorentino Nella settimana Di Fiorentina Juventus A dirgli che Il loro presidente No Però glielo ho detto io No Ma allora Vedi Ma lui è partito Dicendo che Rocco Non ha mai visto nessuno Far così tutte queste Belle cose E la città viola E saluta i parenti In mezzo alla strada E la gentilezza Regalazione E ho capito Ha preso i soldi Mi ha comprato a zero Sono capace Anch'io E lì ha tentato Cioè ha frenato Di brutto Testata contro il vetro E la verità Poi ci aggiunge 140 doblone Di chiese e bravi Sono capace anch'io Di fare le cose O no Perché tu dici I soldi miei Ma sono i soldi Il problema Che io ragionavo Adesso che sto visto Se fa come il tassista a Roma Che per portarmi allo stadio Mi ha portato dal Colosseo Passando per Ostia Ha fatto fare il giro tassi Sì Avevamo detto Guarda con 10 euro Ce la fai E sto pagando ancora una volta È brava Ho detto Se adesso Zudiani Fa in questo modo Io poi pago solo il 50% Il tassi Invece è stato abbastanza onesto Ho detto solo cose vere Senti Un argomento invece tecnico Della nostra puntata Che facciamo su Radio Bianconero E così mi interessa Anche da casa Cosa possono segnalare I tifosi e le tifose Com'è che va? La Juvengo Sempre un po' Arbore anni 80-90 Quelli della notte Sembrano voi Anche noi Sembriamo un po' Quelli della notte Anche se giornano Cioè il tema tecnico è Si può dire Che Ken è meglio di Vlaovic O è attacco di Leza Maestà Io la penso Diametralmente opposto Cioè? Nel senso Che sta facendo bene Ma io credo tantissimo In Vlaovic Non credo in Lukaku Ma io non sto dicendo Che fra 5 anni Adesso Possiamo dire L'ultima partita L'ha giocata meglio Le altre non le ha giocate Che è stop al pallone adesso Vlaovic no? Si Ha sbagliato dei gol Più facili di quelli di Vlaovic Ma ne aveva fatti due Ha fatti due Gli hanno annullato Ha fatto il Deppi Gli hanno annullato E poi ha fatto quel piattone largo Dai Io sono per Vlaovic Tu per Ken Che piattone ha? Si Quando arriva da Kostic Dalla sinistra Porta sotto Lei mi guarda Fato il colpo di testa Che è uscito Quello ma anche con un piattone Lei non mi guarda bene le partite C'è Ken Servito da Kostic Dalla sinistra Allarga E il pallone va fuori Più facile di che Di Vlaovic Guarda che no Ma sei sicuro? Assolutamente si Bim Bum Bum Adesso me la riguardo ancora Bim Bum Bum Due più due Quattro gatti Gattone Ha diventato un bullo di È diventato un bullo di periferia Si siamo essi d'accordo? No È diventato un bullo di periferia Gatti capito? Quattro giornate Sì no Ma facciamo come Crasi Squalificano Quelle faraoni Quelle faraoni No ma neanche così Ha fatto così Ma poi Diuric non gli ha fatto Poi se la vedi di fianco Non gli ha fatto la stessa cosa Poi dopo così Sì di là In area di rigore Però avrebbe già dovuto Cacciare gatti Mi hanno detto Quando ho fatto notare queste cose Chi è che ha dovuto cacciare? No Diuric Quando l'ho fatto notare Che Diuric va su Gatti E gli dà la gomitata Mi fa Eh no Se l'avesse cacciato prima Non si beccava la gomitata Ma chi le ha detto E i tifosi del bar Quelli del giorno dopo Hai capito? Vabbè ma dai Allora c'ho ragione io Ivo in Bologna Dammi rigore su chiesa Dopo 8 minuti E non ci arriveremo mai Ma che ragionamento è? Ha fatto un ragionamento Come Vabbè ma allora Li faccio anch'io Però adesso Sono autorizzato a farli Se loro li fanno Senti non sei sconvolto Dal fatto che La Juve ha tirato 30 volte Verso la porta Perché vale anche Perché vale anche per noi Vedimi la Juve Un conto è tirare Verso la porta E un conto è tirare In porta Guarda Però sei in porta Non me la ricordo già più Questa partita Perché ieri sera Ho guardato la Roma Ho guardato la Roma E mi sono addormentato Però è bravo Mourinho Io volevo Ti dico la vita Io volevo addormentarmi Ma c'erano tutti sti fischi In sottofondo E non riuscivo Ragazzi Avessimo giocato come la Roma Anzi No Allora ragazzi Dopo che vedete La partita della Roma Cioè in confronto a Mourinho Allegri Cos'è? Guardiola Ma di più Ma di più È cru È calcio totale È calcio totale Mamma mia Però Inguardabile la Roma Comunque Zitti zitti Dopo questa giornata Siamo a secondi Secondi Stiamo già scendendo Mi sembra Sembra un po' Ficarra e picona Sì Siamo a secondi Secondi E anche il Abbiamo passato Abbiamo passato Abbiamo passato Tu chi vuoi fare Leao o Giroud Leao gliela Sei un alberato Che l'ha tolto Giroud anche Anche Giroud Anche Giroud Giroud non è andato neanche a salutare Giroud ha fatto due Almeno Giroud c'è un motivo Ha fatto due A quell'altro Certo No perché anche con noi Calabria Ragazzi tutti tranquilli Tutti tranquilli Quindi siamo a più No uno Più uno sul Milan Sì Però siamo a più cinque Sul quinto posto Adesso vedete cosa fanno Stasera Lazio e Fiorentina Però potremmo essere È tutto serio Quello che stiamo dicendo O è costruito No No stavolta E cosa facciamo con la Fiorentina Eh perché volevo arrivare lì In chiusura E cioè C'è Atalanta Contro la squadra di Inzaghi E noi andiamo a Firenze Domenica Quindi tutte e due Simone Simone Quindi tutte e due Abbiamo una trasferta insidiosa O Pippo Adesso sono due Pippo allena Dove è essere B Dove è? Salerno Età Ah Salerno Età Scusate Scusate E se no non sembra Nessi in diretta Scusate Mi c'è la Salerno Età Perdona Perdona Eh però Non voglio Non voglio Malaugurarvi niente Però Questo è lo scambio Simone Con Pippo No Quindi Atalanta Con loro Noi a Firenze Due trasferte difficili Certo Con Allegri Con Allegri Con Allegri Poi tutte e due Abbiamo un turno casalingo Noi con Cagliari Sì Quindi magari No Magari potremmo essere ancora A meno due A meno due E dopo cosa c'è? Juve Il derby Il derby A meno due A meno due 20 e 40 Con la possibilità di Zompargli davanti Ma noi saremmo già tornati Per andare a vedere a Torino O saremmo chiusi qua Perché fuori è passato il passista E c'è chiuso? Speriamo di no Anzi adesso diciamo Che le cose benevole E non me ne viene in mente neanche una Quindi ragazzi Mi raccomando Impara Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al suo canale Like Like al video Like Commenti Commenti Il campa Nella 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 Nella